eccola qua finalmente è ritornata la serie dopo la sosta a in me della nazionale e ritorna il nostro lecce e domani alle ore 15 a torino ci sarà torino lecce ma prima di parlarne vi chiedo come al solito di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto di mettere mi piace quindi tantissimi mi piace per favore in questo video e commentate scrivetemi se siete d'accordo con me oppure scrivetemi il vostro pensiero sulla partita di domani se poi volete e vi piace questa bellissima maglietta o questo bellissimo cappello che mi è stato regalato andate in descrizione e trovate il link per l'anno per andare ad acquistarlo mi raccomando andatevelo a vedere perché sono magliette cappelli imperdibili allora prima di iniziare a parlare di torino lecce sigla let's go eccoci qua bentornati dopo la sigla allora torino lecce finalmente è tornata la serie a e finalmente è tornato il nostro amato lecce avevamo detto che la sosta ci sarebbe servita tantissimo sia per tirare un attimo fiato ma soprattutto per i nuovi acquisti soprattutto per quei giocatori che sono arrivati a fine mercato e che in due settimane in 15 giorni potevano entrare nei meccanismi del mister quindi non ci resta altro che vedere se effettivamente sono serviti 15 giorni a questi calciatori purtroppo con la nazionale con la sosta della nazionale si ferma banda che si è fatto male nella sua nazionale un risentimento muscolare niente di grave ma salterà la partita di domani e non ci sarà d'orgu perché è stato squalificato nella partita precedente contro il Cagliari e quindi vedremo sicuramente March Whiskey in azione e visto che ne parlano veramente tutti bene noi leccesi non vediamo l'ora di vederlo in campo quindi sicuramente domani farà parte secondo me anche degli 11 titolare per quanto riguarda Rebic secondo me non partirà titolare ma sicuramente entrerà chissà magari farà tutto un tempo ma sicuramente giocherà di più rispetto alla partita contro il Cagliari che ha giocato proprio qualche minutino finale quindi vedremo anche Rebic in azione sperando ovviamente che che stia bene lui non vede l'ora di giocare vuole fare bene vuole tornare a Rebic di 3-4 anni fa quindi speriamo sulla partita io sono molto molto positivo ho delle sensazioni proprio buone questa volta non sono mi conoscete lo sapete non sono uno che si sbilancia però questa volta ho delle sensazioni buone quindi secondo me vedremo un ottimo Lecce e ci sarà in campo un ottimo Christovic chissà magari con March Whiskey che li gira intorno con Rebic che li gira intorno vedremo 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 allora parliamo un attimo dei presunti 11 titolari allora Falcone ovviamente in porta Gilbert che speriamo che faccia una partita strepitosa come quella che ha fatto col Cagliari Gaspar Baschirotto e Gallo Gallo con quelle ultime dichiarazioni è stato sicuramente il calciatore che ha onorato di più la maglia rispetto proprio a tutti gli altri giocatori del Lecce però secondo me quelle parole poteva evitarle di dire sicuramente ha anche detto che continuerà a onorare la maglietta vuole entrare nella storia del Lecce sicuramente lo farà ma sono parole che poteva evitarle di dire perché ci sono sempre quelle due barra tre partite magari che ti vengono anche consecutivamente dove non sei al top e rischi che poi il tifoso ti venga a dire qualcosa proprio su quelle parole che tu hai detto a tre partite dall'inizio del campionato io avrei aspettato un po' tanto si sa che sicuramente Gallo sarebbe partito però evita di dirlo adesso ma dimentichiamocelo quindi Gallo sarà il titolare Gallo suderà e onorerà la maglietta come ha sempre fatto poi vedremo appena avanti alle difese secondo me è sempre Pierret e Ramadani e poi troveremo Uden, March Muischi e ho qualche dubbio sull'altro quindi non lo so forse Rebic non lo so vedremo lo lascio con un punto interrogativo con davanti l'unica punta Christovic quindi per me questi saranno i titolari della partita vedremo un po' sicuramente mi aspetto di vedere una bella partita siamo in trasferta ma ripeto ho delle ottime sensazioni vedremo allora io vi ringrazio per aver visto il mio video e ci vediamo sicuramente al post al video di fine partita quindi del post partita di Torino Lecce speriamo di fare un video dove possiamo raccontare una bella vittoria grazie a tutti e sempre Forza Lecce